Giulia Baldini, sei la grande protagonista di questa partita in positivo con il tuo gol e se vogliamo in negativo hai avuto due grandi occasioni e un rigore sul quale c'è qualche dubbio e ti chiedo di partire da questo. Chiariamo i dubbi sul fallo da rigore a tempo praticamente scaduto, c'era o non c'era? L'avversario è stato bravo perché comunque è arrivato anche lei, vice sulla palla, però io l'ho spostata all'ultimo e mi ha toccato la caviglia, non ha fatto un'entrata aggressiva, magari da dire fallonetto, magari l'arbitro è stato un po' dubbioso perché non voleva magari sconvolgere l'equilibrio della partita, ma l'intervento c'è stato. Stiamo giocando più da squadra e in questa partita si è visto come anche le due precedenti, stiamo iniziando ad aiutarci l'una con l'altra, a creare diverse azioni da gol. Peccato che non siamo state magari troppo lucide sotto porta quel palo, però forse anche condizionato dal campo perché è sintetico, non siamo abituati a giocare, i rimbalzi del pallone sono completamente diversi, schizza la palla e magari ci ha penalizzato anche questo. Da oggi come ogni settimana ci dobbiamo impegnare sempre al massimo per presentarci ogni sabato nella condizione migliore per affrontare la squadra, adesso arriverà la capolista fiorentina e ci vorrà uno sforzo ancora maggiore e vediamo di lavorare bene questa settimana.